Il tema che affronta il Green Hub è un tema di grandissima rilevanza, ovviamente di grande attualità, che sono certamente quelli dell'innovazione, dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un rapporto proficuo di conoscenze e di formazione con il mondo dell'impresa. Ma c'è oggi la grande questione, che è una questione internazionale, europea, nazionale e quindi nostra, che è quella della transizione energetica, orientata a tenere conto degli effetti molto negativi che il cambiamento climatico sta determinando sulla nostra vita e sulla vita del nostro pianeta e quindi affrontare questi temi in collaborazione con un mondo dell'impresa che magari va accompagnata e va aiutata anche su questo percorso è un lavoro prezioso. Noi siamo contenti che dal 2018 l'amministrazione ha accompagnato, ha sostenuto questo progetto e faccio i miei complimenti alle associazioni, alle persone che con grande dedizione ci stanno lavorando.